Il nostro favorizio, Mika Scherza, abbiamo bisogno di vedere le mani al cielo, fate vedere come siamo belli, Muslow Pitching, Glass Globe, prendiamo il tempo ragazzi! E' questa che la vede con la battarita qua, Farmer Streisand! Sì! Farmer Streisand Farmer Streisand Ogni mercoledì sabato sera, i migliori DJ, Guido Arcangeli, Cherry, Maurizio è ovviamente la sottoscritta Farmer Streisand